Una partita molto difficile, dominata un po' da Roma all'inizio, anche se il gioco non è stato bello da parte di nessuna delle due squadre, però alla fine la Unipo 6 ha avuto la grande forza di rimontare, di arrivare a pari e c'è stata l'occasione concreta di sfiorare una vittoria. Sono queste partite che fanno male perché quando stai dietro tutto il tempo e che poi verso la fine riesci ad andare avanti, fa male per dire così, bastava solamente fare un fallo alla fine per fermare il loro gioco e non siamo riusciti a farlo, è veramente un peccato, non abbiamo giocato bene neanche loro, però abbiamo combattuto, abbiamo dato tutto quello che era al momento, sapendo che la pressione era alta, la prima partita della Coppa Campione, è veramente un grande peccato di aver perso così perché potevamo veramente vincerla. Nel frattempo il Galatasaray ha perso di 20 o di 30 contro l'Andil, nostri prossimi avversari nella partita di stasera, quindi diventa cruciale, anche se lo è sempre detto, vincere questa partita che è un po' il dentro fuori. Sì, l'avvantaggio è che abbiamo perso solamente di un punto, adesso non è ancora giocato niente, il Galatasaray ha perso di 30 punti, come ho sentito, a noi di vedere come sicuramente l'Andil ha avuto una partita più facile che la nostra e vediamo adesso se siamo in grado di poter dare parole alle campioni tedesche e magari perché no a vincerli, poi vediamo.